Una reietta, una marginata, una persona impura, necessità di un'opzione preferenziale per gli ultimi. Sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie. Non si tratta solo di migranti, nel duplice senso che i migranti sono prima di tutto persone umane e che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata. Si vive, se non si cerca la verità. Aujourd'hui, c'est Paolo Francesco che ci ha invitato per la giornata, per una giornata per gli immigrati. Sono davvero emozionato perché ho riuscito a abbracciato e ho detto tutto ciò che penso a me stesso. Oggi sono venuto per l'invito dei paesi per gli immigrati. Il ha fatto un bel discorso per gli immigrati che sono in mer, che hanno dei problemi. e il è di cuore di aiutare gli immigrati. È un'acqua che è avvenuta recentemente in Afghanistan. Grazie a tutti